Sono momenti delicati, però credo a questo punto positivi. C'è una manovra che definirei la manovra Salva Italia, perché alla fine questo è il risultato economico, produttivo e sociale di questa manovra economica. È stata faticosa, però penso di poter dire che l'obiettivo è stato raggiunto ed è molto utile per chiudere una stagione, mi auguro, segnata dalla precarietà e aprirne un'altra diversa e fondata sulla ricostruzione della speranza. Quindi viviamo questi momenti con questo spirito, cioè della possibilità concreta di raggiungere un obiettivo che solo fino al mese di luglio sembrava impossibile, diciamoci la verità, eliminare l'aumento dell'IVA e investire come si sta investendo invece sul futuro del Paese. Grazie.